La mia riflessione sarà più concentrata sia a livello dell'ambito sia a livello del metodo. A livello dell'ambito del contenuto perché si occuperà soltanto dei primi 12 versetti del Vangelo di Matteo, lì nel capitolo 5 dove troviamo l'inizio del discorso del monte. E a livello del metodo perché cercherò di servirmi degli strumenti biblici e lascio all'intelligenza degli ascoltatori tutte le inferenze e anche tutte le implicanze che un discorso di questo genere può avere a livello sociale, a livello politico e così via. Prima di entrare nel vivo però vorrei gettare uno sguardo sul discorso stesso della montagna sui capitoli 5 e 7. François Moriac ha scritto Chi non ha letto il discorso della montagna non è in grado di sapere che cosa sia il cristianesimo. Mi sembra che questa sentenza di Moriac, anche se andrebbe in qualche modo completata, lasci comprendere meravigliosamente l'importanza che hanno questi 109 versetti del discorso nella storia del cristianesimo, ma direi anche nella storia della cultura occidentale. In effetti il discorso della montagna con le beatitudini che ne costituiscono l'ouverture ha affascinato e sconvolto generazioni di lettori, è stato definito il breviarium evangelii, il breviarium della vita cristiana, la magna carta del cristianesimo, storia del cristianesimo in miniatura e potremo continuare. Gerard Barth ha affermato che all'infuori della lettera ai romani non esiste un altro testo del Nuovo Testamento che abbia tenuto così sotto pressione la Chiesa e le abbia sempre procurato inquietudine come il discorso della montagna. Nell'inverno del 1888-89 Mahatma Gandhi studiava giurisprudenza a Londra, rimase conquistato, the sermon on the mount went straight to my heart e commentava il messaggio di Gesù come lo intendo io è racchiuso nel discorso della montagna, ma subito dopo aggiungeva in occidente, questo messaggio fondamentale ha subito varie deformazioni e molto di ciò che viene considerato cristianesimo è una negazione del discorso della montagna. Certo, bisogna raccogliere, penso anche alla provocazione del grande cancelliere tedesco Otto Bismarck, il quale sosteneva che con il discorso della montagna non è possibile governare uno Stato. E tuttavia mi chiedo se il Vangelo non contenga una richiesta di attitudini per individui e comunità, una domanda di motivazioni profonde a cui la Chiesa non può e non deve rinunciare quando testimonia i fondamenti della convivenza umana. Certo, la Chiesa non può e non deve mettersi al posto dello Stato, non può e non deve neanche restare ai margini della lotta per la giustizia, non può e non deve rinunciare a proclamare la verità di Dio e la dignità dell'uomo, deve fare tutto questo risvegliando quelle forze morali senza le quali non vengono costruite strutture giuste e dignitose. Ecco allora le domande che mi muovono in questa breve conferenza. Qual è la verità di Dio e qual è la verità su Dio e sull'uomo che le beatitudini annunciano? Qual è la giustizia che si rivela nelle beatitudini che Gesù pronuncia sul monte? Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, dice Gesù. Ecco, vorrei tentare di comprendere la giustizia di Dio secondo la logica dei macarismi. Vorrei comprendere che cosa significa beati poveri, beati miti, beati misericordiosi nel nostro mondo secolarizzato. Qual è la verità che una Chiesa rinnovata è chiamata a testimoniare secondo le beatitudini? Cercherò di fare questo con tre riflessioni, se ne potrebbero fare molte di più, ma mi limito a tre riflessioni. La prima è strano che un discorso come quello del monte, improntato sull'esigente volontà di Dio, inizi con beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto, beati i miti. Lo notava anche l'ebreo, lo studioso ebreo, Pinkas Lapide, che affermava questo. Ho spesso pensato che in realtà le beatitudini starebbero meglio alla fine dell'insegnamento della montagna, di cui costituirebbero l'affermazione cruciale, che si conclude con la promessa culminante, gioite ed esultate, perché grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. Una cosa è certa, la ripetizione dell'Emma Macarioi per nove volte introduce i lettori in un'atmosfera di gioia, di benedizione. Perché? Perché il discorso del monte sull'esigente volontà di Dio inizia proprio con i macarismi? A mio parere, in questo discorso, Matteo pone davanti alla comunità le radicali esigenze del regno, ma non senza aver prima detto che il regno è grazia. Si pone qui, forse, per la prima volta nel Vangelo di Matteo, in maniera forte, il rapporto tra indicativo e imperativo, che ha attraversato e diviso le interpretazioni del discorso della montagna, ma ha diviso anche le confessioni cristiane che ad esso hanno fatto sempre riferimento. Ponendo all'inizio di un discorso radicale ed esigente le nove beatitudini, Matteo vuole invitare i lettori a percepire anzitutto il carattere salvifico dell'annuncio del regno, a comprendere che la stessa esigente volontà di Dio è Vangelo, la stessa volontà di Dio è bella notizia. Si può fare un paragone con i dieci comandamenti, anche essi esprimono la volontà di Dio, l'esigente volontà di Dio, ma anche essi non iniziano con un imperativo, iniziano con un indicativo. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù. Il Decalogo dunque inizia con un indicativo che è la prova d'amore di Dio che sola, dicono i commentatori ebrei, sola gli attribuisce il diritto di dare del tuo all'uomo, aspettandosi che sia in grado di sopportare il gioco del regno dei cieli. Il primo testamento lega la gioia anzitutto alla consapevolezza di appartenere a una storia della salvezza che ha nella stessa promessa di Dio la garanzia della riuscita. E questo significa allora saper leggere la promessa di Dio tra i crepacci della storia, tra le contraddizioni della storia. Questo significa credere che nel deserto può aprirsi una strada, nella steppa può sgorgare acqua dalla sorgente. Questa non è poesia, è fede in colui che può fare nuove tutte le cose. Questo significa dire che Dio è nelle cose penultime. Questo significa credere nonostante, nonostante le smentite e nonostante i progetti che ogni giorno, quotidianamente, riponiamo nel cassetto. In Isaia 35 il creato è rappresentato da luoghi aridi per antonomasia, il deserto, la steppa. Eppure questo creato è invitato alla gioia per ciò che Dio è in procinto di operare. Ovviamente questo non ha nulla a che fare con la fuga dal mondo, non ha nulla a che fare con lasciare Dio il solo responsabile della storia. Il saggio biblico non è l'uomo che si rifugia nell'impassibilità, nella pateia. Ieri Ravasi parlava di apateismo. L'uomo biblico, al contrario, è colui che si sporca le mani. Ma l'uomo della Bibbia sa anche che l'arte, la scienza, la cultura, e cioè le realtà penultime, davanti alla stanza di un moribondo si fermano. Saper coniugare le parole penultime con la parola ultima è proprio del cristiano. E arrivo così alla seconda riflessione che scaturisce dalle beatitudini. Questa seconda riflessione parte dagli atti linguistici nelle quali le beatitudini sono espresse. Tutti sappiamo che tramite il linguaggio non solo descriviamo le cose, ma agiamo, facciamo le cose. Il linguaggio, è stato detto appena, il linguaggio ha una dimensione pragmatica. Austin ha voluto esprimere questa funzione con un titolo espressivo, How to do things with words. E questo significa che ogni discorso che facciamo, ogni storia che raccontiamo, ogni enunciato che proferiamo, non ha solo lo scopo di dire come stanno le cose, di constatare la verità o la falsità della cosa, ma di compiere ciò che il testo dice, racconta, enuncia. Si tratta, insomma, del linguaggio come evento performativo. Di fronte a quali atti linguistici ci troviamo nei macarismi? In tutte e nove le beatitudini non abbiamo degli imperativi, abbiamo detto, abbiamo degli indicativi. Si tratta dunque di atti constativi o rappresentativi, che descrivono la realtà delle cose, oppure si tratta di atti dichiarativi, che cambiano la realtà delle cose. È importante saperlo, perché con la categoria beatitudine applicata a situazioni di indigenza umana, si è rischiato di avallare a volte uno stato di passività dei cristiani nei confronti di condizioni che andrebbero invece denunciate come indegne dell'uomo. L'attesa di un futuro risarcimento, saranno saziati, saranno consolati, non rende il messaggio di Cristo uno piace o per il presente? Questa preoccupazione, che ha dalla sua parte anche delle malformazioni storiche dovute a un'ermeneutica equivoca del messaggio cristiano, mostra anzitutto un'errata comprensione degli atti linguistici che sono qui nelle beatitudini. Questo ci spinge anzitutto a riflettere sull'accostamento costante di macarioi, beati, a delle categorie di persone carenti dal punto di vista umano o comunque insignificanti. Si tratta di un elemento destabilizzante, perché il lettore sa che dall'esperienza quotidiana che i poveri, i miti o i perseguitati non sono beati. Beati sono coloro che hanno i mezzi per imporsi, che detengono forza e potere, che attirano su di sé l'attenzione del mondo. La destabilizzazione che produce questo accostamento tra beatitudine da una parte e carenza dall'altra è intenzionale. vuole provocare nel lettore uno shock. È lo shock del regno. Le beatitudini, infatti, sono atti dichiarativi, perché cambiano la realtà. Si tratta di un rovesciamento prospettico per cui la vera pietra d'angolo della comunità messianica il vero compasso non è quello dei costruttori del mondo. Sono le pietre scartate il fondamento della Chiesa e dell'umanità. La pietra scartata dai costruttori diviene testata ad angolo. Sin dal primo discorso del Vangelo i lettori sono messi a confronto con il fatto che il regno annunciato da Gesù sarà alternativo alle categorie mondane. Il mondo vive dei suoi miti. Il compasso dei costruttori del seculum spesso non è né l'amitezza né la misericordia. Gesù capovolge queste categorie. Troppe volte la Chiesa si è mossa secondo il compasso dei costruttori di questo mondo. Lo diceva già San Bernardo nove secoli fa. La Chiesa spesso ha misurato la sua fedeltà più con i criteri di Giustiniano che con quelli offerti dal discorso della montagna. Ha dimenticato di essere fondata su una pietra scartata dai costruttori e Gesù dichiara a Beate alcune categorie di persone che nell'accezione comune non sono tali. In questo mondo Gesù modifica lo stato delle cose capovolge le categorie della sapienza umana secondo la quale i poveri gli afflitti i miti i perseguitati sono dei perdenti. Questo significa anzitutto che le beatitudini vanno lette nell'ottica del regno. Il regno inaugurato da Gesù instaura un altro ordine una situazione nuova in cui al primo posto è la giustizia di Dio. Mettendo in primo piano i poveri i miti misericordiosi non si vogliono addormentare le coscienze ma si vuole contestare radicalmente l'ordine gerarchico del secolarismo. Gesù insomma afferma un paradosso i perdenti diventano i beneficiari della salvezza messianica esattamente il contrario del sonno delle coscienze perché si tratta della contestazione radicale delle categorie del mondo. In questo modo Matteo non assolutizza una condizione storica e non lega ad essa la gioia cristiana. L'assoluto per Matteo non è la condizione economica o sociale in cui una persona si trova ma il regno di Dio è la sua giustizia con il capovolgimento dei criteri che il proton il primo del regno provoca. Se vogliamo tradurre tutto questo in termini socio-economici si deve dire che la reintegrazione al popolo di Dio nel popolo di Dio degli esclusi e degli emarginati fa parte della missione di Gesù e della salvezza cristiana. una storia rabbinica mi sembra una bella metafora di quanto vado dicendo una storia rabbinica narra che quando gli uomini decisero di costruire quella torre di cui ci parla la Genesi che arrivasse sino al cielo salivano sulla rampa destra per portare i mattoni e scendevano sulla sinistra per andare a prenderli. Ora se uno schiavo durante la salita o durante la discesa moriva nessuno se ne prendeva cura ma se si rompeva un mattone tutti si preoccupavano e si domandavano ma quanto costerà chi darà il denaro e Dio vide che gli uomini si preoccupavano più dei mattoni che dei loro compagni discese e li disperse su tutta la faccia della terra. Fin qui il Midrash è stato detto che nell'attuale situazione l'aspetto più allarmante non è che alcuni popoli dipendano da altri i dominatori non considerano scusate dipendano da altri o degli esseri umani dipendano da altri esseri umani quello che succede oggi è molto peggio i dominatori non considerano più gli altri non considerano più gli altri dei sottomessi ma degli esclusi ossia ormai non contano più non rientrano più nei calconi nei progetti nei conti nemmeno nei programmi economici politici e culturali questo per esempio è esattamente quello che sta accadendo con la stragrande maggioranza dei paesi dell'Africa Gesù instaura un altro ordine una chiesa che vuole rinnovarsi non può dimenticarlo e così arriva la terza e ultima riflessione che è l'ultima verità che emerge dalle beatitudini e anche qui parto dagli atti linguistici beati poveri beati miti oltre che atti dichiarativi sono anche atti commissivi gli atti commissivi secondo la definizione di Searle sono quelli nei quali il parlante impegna se stesso a far sì che le cose corrispondano alle parole io ti prometto è un atto commissivo in altre parole dicendo beati i poveri i miti i misericordiosi Gesù si fa portavoce di un Dio che si impegna a far sì che questo sia vero i passivi divini che noi troviamo nelle beatitudini saranno saziati saranno consolati ci dicono anzitutto che Dio si impegna in prima persona è lui l'artefice del rovesciamento si tratta di passivi divini tutto questo corrisponde alla concezione vigente nell'antico oriente che la funzione del re non era quella di rimanere imparziale rispetto allo status quo la funzione del re non era quella di rendere giustizia ai sudditi secondo i loro meriti ma nel prendere le difese di chi non sapeva o non poteva difendersi e dunque le difese degli orfani degli stranieri e delle vedove che non avevano garanzie perché non avevano diritti e possibilità come gli altri dunque non era la neutralità la condizione ideale del re ma l'assunzione di responsabilità nei confronti di coloro che non potevano a questo punto si presenta però l'altro aspetto fondamentale del discorso della montagna non solo Dio è responsabile di queste persone il credente è chiamato alla responsabilità non a caso il discorso del monte è rivolto ai discepoli e a tutti quelli tra le folle che vogliono diventare discepoli i verbi al futuro in questa ottica sono rilevanti perché nell'accezione semitica il verbo non viene classificato sulla base del tempo come nell'accezione greca cioè nell'accezione semitica il verbo non viene classificato in quanto presente in quanto passato e in quanto futuro ma sulla base della compiutezza e dell'incompiutezza quindi sulla base dell'azione compiuta o incompiuta il futuro rivela un'azione incompiuta per questo le beatitudini sono per lo più al futuro il futuro è lo spazio della responsabilità dell'uomo è lo spazio dell'agire umano tra il presente di Dio e l'incompiuto dell'uomo è il tempo del compimento quando gli afflitti saranno consolati e i miti erediteranno la terra il cristiano si coinvolge nella prassi nel fare ciò che dice non si deve in nessun modo dimenticare che Matteo è il Vangelo dell'ortoprassi e non puramente dell'ortodossia molti ortodossi in quel giorno diranno signore signore notiamo il curie 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 che è la suprema professione di fede nel Vangelo di Matteo curie curie non abbiamo forse profetato nel tuo nome non abbiamo cacciato demoni nel tuo nome non abbiamo forse compiuto prodigi io dichiarerò loro non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi che operate anomia in questo la teologia della liberazione mi pare aveva perfettamente ragione è la prassi il luogo ermeneutico della fede in Matteo 25 viene presentato un re che proclama avevo fame mi avete dato da mangiare avevo sete mi avete dato da bere in questo testo che definisce l'agire come giusto ciò che definisce scusate in questo testo ciò che definisce l'agire come giusto non è il rapporto con una qualsiasi legge formalmente cristiana nella dichiarazione del re nella risposta dei giudicati viene ripetuta una lista di sei opere di misericordia che sono naturalmente esemplificative è l'attempimento di queste opere il metro di giudizio anche all'interno del giudaismo abbiamo testi che testimoniano un analogo programma nella Mishnah per esempio un detto di Rabbi Hamar Bar Haninah commenta il capitolo 13 del Deuteronomio al versetto 5 lo commenta così come Dio ha vestito quelli che erano nudi Adamo ed Eva vesti anche tu quelli che sono nudi come Dio ha visitato gli ammalati Abramo tu pure visita gli ammalati come Dio ha consolato gli afflitti Isacco consola anche tu gli afflitti come Dio ha seppellito i morti Mosè tu pure seppellisci i morti la novità di Matteo 25 non consiste solo nell'imitazio dei ma nel definire una nuova percezione della realtà siamo nell'ultimo discorso di Matteo interessante perché il discorso del monte è il primo in questo ultimo discorso i discepoli vogliono conoscere i segni della fine del mondo della parousia del figlio dell'uomo Gesù invece li riporta alla percezione della sua presenza nella storia i crocifissi diventano il tempio della presenza di Dio è una nuova percezione del Dio con noi il re giudice investe la sua autorità nella difesa dei poveri la loro causa diviene nel giudizio la sua causa il loro destino diventa il suo destino sarebbe certamente un fraintendimento di Matteo comprendere il giudizio ultimo contenuto nel capitolo 25 come l'affermazione di un cristianesimo definito da un'etica filantropica essenzialmente non si tratta di un'etica si tratta di teologia di una nuova percezione della storia alla luce di Dio saper riconoscere Dio e la sua presenza nella storia è certo un elemento di notevole interesse teologico che Matteo concentri qui la presenza non nel tempio e nemmeno soltanto nei rappresentanti pleni potenziari che parlano a nome di Gesù ma in coloro che hanno che sono nudi che sono carcerati e così via al posto dell'interesse per i diritti della chiesa Matteo pone qui come criterio il diritto dell'uomo di ogni uomo senza distinzioni è qui la secolarità di cui parlava Bonheff ed è qui l'accezione positiva di secolarità Dio è al centro del villaggio quando l'uomo ogni uomo non è cacciato alla periferia e chiudo con un'affermazione antinomica per certi versi a quella che ho esposto nel primo punto della mia relazione dicevo all'inizio che la cultura l'arte la scienza insomma le realtà penultime si fermano davanti alla stanza di un moribondo ora dico ancora con Bonheffer che la chiesa potrà pronunciare ancora con credibilità e libertà le parole ultime e cioè potrà ancora parlare di salvezza di vita eterna di inferno di paradiso potrà pronunciare ancora in un mondo secolarizzato queste parole ultime quando avrà fatto sue tutte le parole penultime quando avrà compreso che servire il regno è servire l'uomo grazie